Amici di SneyTube, un cordiale saluto, bentrovati. Oggi parleremo di tre sport molto seguiti nel betting. Parleremo di moto mondiale, parleremo di ciclismo ed infine di basket. Allora, iniziamo dalle due ruote ma con un motore veramente potente. Il moto mondiale fa tappa nello storico circuito di Le Mans. Il meteo farà certamente la sua parte. Valentino Rossi è impaziente di guidare la sua Yamaha sul percorso che tanto gli si addice. In caso di pioggia sarebbe un sicuro protagonista. Anche Lorenzo cercherà di recuperare terreno sulle onda sfruttando le caratteristiche del percorso. Quote in aggiornamento nella giornata di domani e sabato e quando ci saranno le qualifiche. Domenica dalle 11 gare in diretta TV con scommesse live. Per la MotoGP invece partirà alle 14. Al momento le quote sono Lorenzo favorito a 2,75 su Pedrosa a 3,50. Adesso parliamo di ciclismo. Si va verso la conclusione della seconda settimana. Ennibali nel frattempo ha diventato il favorito per la maglia rosa finale. Ma anche quest'anno ci sono state tante tappe difficili e continui colpi di scena. E si deve fare attenzione a nuovi capovolgimenti delle posizioni in classifica. Ed infine parliamo di pallaspicchi, parliamo di basket, playoff, NBA e Serie A. In Italia quarti di finale già al meglio delle sette gare. Armani e Siena si sono trovate contro al primo turno in quella che all'inizio della stagione sembrava poter essere una possibile finalissima. Armani sembra più in forma ma lo sforzo potrebbe costare caro nelle fasi successive. Quote aggiornate e scommesse live quasi tutti i giorni. Al momento abbiamo la scommessa anteposta vincente. Ed è Varese favorita con la quota di 2,20 su Milano a 3,25. Siena a 6 come del resto Sassari. Poi abbiamo Roma a 12, Cantù a 15, Reggio Emilia a 33. Chiude questa speciale scommessa a Venezia con la quota di 300. Ed è tutto anche per oggi. Ci vediamo prestissimo.